Ciao a tutti e benvenuti in questo quarto video relativo alla guida completa sul formato Geo Package. In questo tutorial andremo a vedere l'importazione e l'esportazione dei layer all'interno del nostro Geo Package. Ho già preparato per il discorso dell'esportazione in Geo Package un file di progetto dove all'interno abbiamo tre shapefile come vedete rete stradale questo è un shp rete canali un alto shp lineare poi un shape poligonale comune poi ho inserito anche un file raster uno straccio di una ctr con formato tiff. Ho fatto già una categorizzazione su questi due shapefile quindi in questo caso avete stradale una categorizzazione sul campo classe e questo qua invece sul rete canali sul campo proprietà ok e quindi l'obiettivo in questo caso è di creare un Geo Package che vada quindi a salvarmi all'interno tutti questi elementi mantenendo anche la anche degli stili in questo caso di questi due layer. Quindi il comando che mi permette di esportare in Geo Package lo troviamo sotto Processing Strumenti il comando si chiama eccolo qui impacchetta layer lo faccio vedere ecco qua sotto database impacchetta layer una volta che ho fatto partire il comando questo opera solamente sugli elementi vettoriali di fatti quando io adesso vado a selezionare vedete che non mi mette il file ctr questo file raster dovrò successivamente importarlo dentro in questo caso lui va a prendermi tutti gli elementi vettoriali che trova quindi seleziona tutto ok e salvo gli stili dell'AIA cioè se non mettessi questa spunta qua lui non dovrebbe a salvare gli stili io dico mantenimi quindi la categorazione che ho utilizzato e cliccando quindi lasciando salva stili dell'AIA e scelgo ovviamente il Geo Package e destinazione quindi salva su file andiamo su cartella 4 e li metterò ad esempio dati comunali quindi dati comunali ok faccio il mio esegui eccolo qua fatto andiamo a caricare il Geo Package che abbiamo appena creato quindi vado a caricare ce l'ho già qui quindi dati comunali Geo Package aggiungi aggiungi layer ecco come vedete abbiamo la stessa copia identica di quello che avevamo precedentemente nel nostro file progetto quindi i tre layer che hanno mantenuto ovviamente gli stili che avevamo deciso nel file di progetto precedente per vedere i nomi che QGIS ha assegnato gli stili andiamo sul pannello sul gestore di stili faccio altro che fare carica di stili andiamo sul database della sorgente dati vedete che in questo caso lui ha dato come nome degli stili gli stessi nomi dello shape file quindi rete stradale rete canali e comuni in questo caso a questo punto andremo ad aggiungere al Geo Package anche il nostro file Rust quindi vediamo come procedere allora per inserire quindi il CTR il mio Rust il mio Geo Package posso farlo in varie maniere adesso andremo a vedere quello secondo me quello più semplice più immediato ed è quello attraverso l'utilizzo del browser quindi vado su visualizza vado su pannelli apro il mio browser ok io mi sono già messo come cartella di preferiti la cartella di lavoro quindi vedete ho il mio dati comunale Geo Package dove all'interno ho i tre file vettoriali che abbiamo prima impacchettato non faccio altro che prende CTR TIF vedete e lo trascino su dati comunali ecco vedete che lui ha inserito il CTR quindi io non faccio altro che in questo caso caricare il Geo Package attraverso il trascinamento del file lo carico lui mi vede all'interno anche il CTR aggiungi layer ed eccoli qua questo qua posso anche spostarmelo in giù tanto permette un ordine eccolo qua quindi vedete Geo Package con i miei tre file vettoriali e il mio RAST quindi un file unico ho tutto quanto per cui posso mandare via email una tasta persona posso mettermi sulla chiavetta e capite bene la comodità ve lo ribadisco ancora di questo formato per quanto riguarda l'esportazione da Geo Package andremo a vedere come esportare un layer di Geo Package e convertirlo in uno shape file andiamo a caricare quindi un Geo Package in questo caso rete idraulica rv Geo Package e aggiungi in questo caso ha due layer un layer poligonale Regione Veneto e un layer lineare corsi d'acqua principali Regione Veneto ecco qua nel caso io volessi fare un'esportazione quindi ad esempio delle province dell'Arogeno Veneto in un shape file una cosa semplicissima non faccio altro che andare su layer faccio un esport faccio salvo elementi come e vado a scegliere shape file il nome del shape file in questo caso mettiamolo sempre in Geo Package 4 chiamiamo Regione Veneto poi andremo a salvarlo intanto non lo aggiungi cioè lo salviamo senza aggiungerlo ok eccolo qua e anche corsi d'acqua quindi export salvo elementi come stessa cartella facciamo corsi acqua rv eccoli qua andiamo adesso a caricare i due shape file che abbiamo fatto ok andiamo a caricare gli shape file quindi questo e questo ovviamente vedete che non hanno assolutamente mantenuto gli stili perché gli ho shape file come ben sappiamo per avere diciamo lo stile collegato dovremmo salvare in QML gli stili ad esempio vi faccio vedere un attimo in questo caso quindi non ho prima salvato nessun stile andiamo di nuovo a caricare il Geo Package eccolo qui facciamo solo Regione Veneto ok io avrei dovuto fare sotto il gestore dei stili quindi salvare in file QML ok lo salviamo nella stessa cartella gli diamo rv Regione Veneto eccolo qua quindi ho due file separati ho lo shape file e il QML quindi ricarico un attimo per farvi vedere lo shape file eccolo che si carica ovviamente senza nessun stile e in questo shape file andiamo applicare il file QML quindi vado a caricare lo stile da file da file QML da caricare stile ecco qua vedete lo stile che avevamo precedentemente salvato quindi per quanto riguarda lo shape file questa è la modalità diciamo predefinita nell'utilizzo proprio degli stili all'interno bene sono arrivato alla fine di questo video spero che sia stato di vostro interesse e vi aspetto per il prossimo quinto video che sarà anche l'ultimo l'ultimo relativo alla guida sul formato GeoPackage ciao a tutti grazie